allora ragazzi eccomi qua io ho già preparato la mia meringa ovviamente non l'ho ripreso perché era completamente impossibile alla questa sarà la base dove io poi andrò a realizzare il mio mont blanc allora gli ingredienti sono due albuni mi raccomando assolutamente non fateci andare in rosso quando li separate 170 grammi di zucchero semolato un pizzico di sale e ovviamente qui dice il cacao maro ma io ovviamente non lo metterò allora il forno va a 90 gradi per circa 40 minuti anzi no scusate 100 gradi e poi perché presente il problema qual è che ci vuole il forno ventilato io però purtroppo non ce l'ho quindi io adesso ho messo a 100 e poi abbasserò al 90 e più o meno la cottura sono 40 minuti allora il procedimento è questo una volta che abbiamo separato i rossi dagli albumi aggiungiamo negli albumi un pizzico di sale e facciamo li montiamo a neve per circa cinque minuti fatto questo step prendiamo poi i 170 grammi di zucchero e li andiamo ad amalgamare piano 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 il composto vi deve risultare comunque duro non deve essere in mollo vedete com'è bello soffice e adesso andiamo infornare nel forno ci vediamo dopo il bel risultato